Ciao a tutti e bentornati, oggi non mi si vede perché voglio farvi vedere come ho risistemato le mie librerie e spero che sia una sistemazione definitiva. Allora, come vedete, una 4x4, qui nella prima fila ci sono divisi per blocchi e più o meno in ordine alfabetico tutti i libri che ho singolarmente di vari autori, cioè autori di cui ho un solo libro. Magari se mi spiego in italiano mi si capisce anche. Qui sotto invece abbiamo in questi primi due libri di autori di cui ho più libri ma di cui non credo di fare la bibliografia completa. Cosa che invece farò degli autori di questo scaffale qui, mentre qui abbiamo tutte le saghe che ho completato, ovviamente c'è non tutte, una parte perlomeno, infatti come vedete qui sbuca Harry Potter e compagnia. Lì sotto questo scaffale bianco è quello della biblioteca del Novecento che usciva con la FAMPRI tra il 2013 e il 2014, se non ricordo male, o 2012-2013. Qui lo scaffale è ancora vuoto e bene sì, vediamo bucare Melman con un piede di Megamind e scimmia là in alto. Qui ho fatto lo scaffale graphic novel e manga, perché ormai sono entrata nel vortice e non ne uscirò viva. Qui sotto abbiamo i libri delle saghe che devo ancora finire di leggere o di rileggere come in questo caso, perché questo qui, come penso si capisca, è Harry Potter, che sto appunto rileggendo in quell'edizione. E naturalmente i libri li ho tutti, ma non ho ancora finito appunto di leggerli. Mentre qui abbiamo... Cosa sei tu? Annientamento e vabbè, roba... Insomma, la serie di Cormoran Strike, che appunto non ho ancora terramiata. Incantesimo, che finalmente adesso uscirà il secondo libro e non vedo l'ora. E va bene, ok, insomma avete capito. Qui sotto, libri che tanto non si fila più nessuno in casa mia, perché sono per ragazzi, ma non voglio darli via. Qui sotto, altri libri che non si fila nessuno, perché sono quelli... Live Deluxe della Newton Compton. E dietro questi ci sono, dunque, teatro, libri in lingua e cose di filosofia, insomma. Altro scaffale che non si fila nessuno, perché è quello dei dizionari. E diciamoci la verità, il cinese non lo studia più nessuno in casa mia. Invece qui sembra vuoto, ma non lo è. Insomma, lo è più o meno. Ed è quello con l'Atlante, che è questo qui messo in diagonale. E libri di poesia o di... Cosa che era, dunque... Ah, libri degli aforismi e cose di questo genere. Che potrei tranquillamente spostare qui. Ma non lo so, mi piacerà. Adesso passiamo ai libri che devo ancora leggere. Qui in alto non è cambiato molto, perché ci sono sempre quelli che io tengo a disposizione per varie challenge. Per letturo del mese. Queste qui sono quelle che ho in ritardo e che naturalmente non riuscirò a portare a termine in questo mese. I 15 da leggere, i 15 livi da... Da finire, insomma. E gli altri non mi ricordo per cosa li avevo selezionati, ma va bene. In realtà poi ho sistemato quindi solamente... Cioè, solamente, o di... Questi scaffali. Questo qui è lo scaffale con le liste, i miei, tra virgolette, archivi. Come sapete, no? Non di un alfabetico per autore, i testi che ho di quell'autore. Qui libri e manga, che vi farò vedere nel wrap-up e nel book haul. Aia. Qui, vabbè, questa busta qui rosa in realtà contiene i bigliettini con i numeri per quando mi deciderò a pescare un libro qui dentro. Erano nella bottiglia, se ricordate, ma poi ho visto che facevano fatica ad uscire, allora li ho spostati di qui. Scusate. E qui ho quindi i libri in lingua. Là dietro ho testi di filosofia, saggi, psicologia, cose di sto genere. E un'altra edizione dei Promessi Sposi, perché io volevo leggere quella là dietro, ma sta cadendo a pezzi. E questa qui, oltre ad essere, tra virgolette, più nuova, perché in realtà anche questa qui ha la coprotina scollata. Comunque è più facile da maneggiare e se si rompe non me ne frega niente, più o meno. Insomma, diciamo che tengo più quella là dietro che questa qui davanti. Poi, qui sotto, abbiamo i libri acquistati nel 2013 e che sì, sono ancora lì e io non li ho ancora letti. Come vedete sono in tripla fila. Oppure sopra e sotto. Lo stesso vale per questi qui. Questi qui sono 2014 parte 1. Sono solo in doppia fila, perché in realtà poi c'è anche questo scaffale qui, che è sempre 2014 parte 2. e sono in doppia fila più quelli sdraiati. Qui sotto abbiamo invece i 2015 e naturalmente sono qui di più, cioè lo scaffale più pieno, perché giustamente, no? È l'anno in corso, quindi tutto ciò che io acquisterò ancora andrà ad accumularsi qui. Qui abbiamo i, dunque vabbè, le saghe che devo, mamma mia, che devo ancora leggere. In realtà ci sono molto, 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 insomma, ci sono meno libri in questo scaffale che negli altri, anche se sembra più pieno, ma come vedete ci sono libri voluminosissimi e quindi giustamente occupano spazio. Comunque, dicevo, sono appunto le seghe che devo ancora cominciare o terminare, più questi sette libri che ho acquistato prima del 2013. Ad esempio, questo qui risale alle medie, questo qui risale al liceo, questo qui dovrei averlo preso l'anno della maturità, e questo qui, vabbè, era di mio padre, quindi dovevo ancora nascere praticamente quando l'ha comprato. Qui sotto, invece, l'ultimo scaffale, abbiamo i libri che vi ho fatto vedere già mille e mille volte nelle TBR e che ancora non sono riuscita a leggere, e quindi sono quelli che io tengo, diciamo, come riserva, così se vi faccio vedere, ad esempio, nel TBR dei 5 libri, poi quelli li finisco, posso pescare anche qui senza sentirmi in colpa. Quindi, bene, queste qui sono le mie libri ordinate, ho cercato di fare un video molto breve, ma come sempre mi sono dilungate in chiacchiere, e niente, ci vediamo al prossimo video, anzi, ai prossimi video che vedranno questi libri qui come protagonisti, ma non vi svelo altro. Ci vediamo alla prossima, ciao!